Benvenuti su MyFootballJersey. Oggi vediamo la seconda maglia del Corinthians per la stagione 22-23, quella che ormai è conclusa, in edizione Player. La maglia Nike Corinthians 2022 ha una base nera con rifiniture dorate sul collo e polsini rotondi. La forma dello stato di San Paolo appare con una stampa all over in un colore grigiastro con un effetto di solvenza. Il modello di Vaportnik di Nike implica che il motivo viene interrotto nella parte superiore del torace dalla cucitura curva. I numeri sono bianchi, neri e oro con lo slogan Contra Todo e Contra Todos, contro tutti e tutto. Al badge del club è stato dato un cambio di colore, poiché di solito è rosso, è sostituito dall'oro per l'ancora e i remi. I loghi di sponsor adornano il petto, le maniche delle spalle e il fondo della maglia. Questa maglia è molto bella, nella mia classifica prende 4 stelle. Bellissimo la rifinitura in color oro e molto bella questa sfumatura in toni di grigio e nero. Il costo lo vedete qui sopra. Vi ricordo che include anche le spese di spedizione per una maglia fatta benissimo con una qualità eccezionale e dei tempi di spedizione molto veloci. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere questa e altre bellissime maglie che vi attendono. Ora prima di lasciarvi la parte finale, spero che possiate regalarci un grosso like e iscrivervi al canale. È l'unico modo che vi avete per avere sempre nuove recensioni e far crescere il canale. Ci vediamo alla prossima, ciao! Io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player. Ciao! 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 Grazie.